Nella parte finale della stagione noi abbiamo visto veramente in campo il leone, ma l'abbiamo visto solamente nella seconda parte di stagione. Nathan Nandez, anche lui vittima di troppi infortuni durante la stagione, di acciacchi vari che non gli hanno permesso di essere costante nel rendimento, ha dimostrato tutto il suo attaccamento alla maglia e tutto il suo valore nella parte più importante, quando si doveva inseguire, si doveva centrare l'obiettivo e si doveva riuscire nel vero e proprio miracolo. È stato veramente uno dei dominatori del campo quando lo abbiamo visto lottare su ogni pallone ci siamo accorti realmente del perché si chiamasse Eleon, fosse questo il soprannome, forse non lo aveva mai dimostrato come l'ha dimostrato in questo campionato. Se mettiamo in conto però anche le prove opache non possiamo dargli il voto completo perché rispetto alle potenzialità che ha espresso nella parte finale abbiamo visto anche delle partite non del tutto colorate. Quindi per quanto riguarda Nandez, considerato che potrebbe rendere molto di più, il voto è 8,5.